la nazionale di basket paraplegico è stata aggreditabilmente per motivi inconducibili alla stupidità umana. Questa ragazza è una studentessa universitaria peramana, io vorrei che lei invitasse questa ragazza qui al prossimo consiglio comunale o a un consiglio successivo per esprimere la vicinanza di tutta la città e di tutto il consiglio contro questa vive aggressione, quindi vorrei che lei invitasse a Viagrice Ion in questo consesso comunale perché possa avere la solidarietà della città. Grazie. Grazie a lei consigliere, nel condannare a nome di tutti i consiglieri comunali di questo consesso, quindi a nome di tutta la città, questo vive e vergognoso episodio, posso anticiparne che in questo argomento, quindi del relativo indito della vittima, per un riconoscimento e anche per una vicinanza vera nei confronti della credita, porterò questa questione all'ufficio di presidenza di domani per organizzare la visita della nostra concittadina e quindi comunque cittadina e scritta alla prevedere. Ricordo che i lavori di oggi sono ancora organizzati in modalità di distanziamento, che i lavori di oggi sono ancora organizzati in modalità di distanziamento. Grazie a tutti.